Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di tv siti in apertura sempre l'emergenza sanitaria nuova polemica del governatore della campagna Vincenzo De Luca sulla gestione della campagna vaccinale in particolare sulle dosi di vaccini dati alle regioni torniamo ad occuparci dell'omicidio di Maurizio Cerrato a Torre Annunziata il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo ha scritto al prefetto per chiedere maggiore sicurezza in città torniamo a Torre del Greco e facciamo il punto della situazione NU con l'assessore Cinzia Mirabella ai microfoni di tv siti le nuove riaperture in zona gialla questa mattina con le nostre telecamere siamo stati a Corso Garibaldi per vedere come i ristoratori si stanno preparando in vista del fine settimana in chiusura lo sport con la Turris ultima di campionato contro la Vibonese si guarda già al calcio mercato questo ed altro guardiamo i servizi L'Italia dovrebbe aver raggiunto l'obiettivo delle 500.000 dosi al giorno lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo nel corso della puntata di ieri a porta a porta i dati mi danno una proiezione di una forbice tra le 480 e 520 mila che dovrebbe essere attorno al target ha detto sottolineando che ci sono le potenzialità per arrivare anche a 600 700 mila inoltre ha aggiunto che entro la metà di luglio il 60 per cento degli italiani dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose di vaccino con l'immunità di greggio estimata per la fine di settembre intanto continua il calo della curva in tutta Italia nell'ultima settimana si è infatti riscontrato un decremento rispetto ai giorni precedenti dal totale dei casi positivi a quello dei decessi passando per i dati delle terapie intensive incidenza stabile nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi della regione campania che ieri ha registrato poco meno di 2000 casi sono 137 le unità occupate in terapia intensiva mentre aumentano i posti disponibili in degenza nelle giornate di ieri però il presidente vincenzo de luca si è lasciato andare ad una nuova polemica sulla gestione della campagna vaccinale la campagna a 207 mila vaccini in meno rispetto alla sua popolazione ha denunciato il governatore campano definendo delinquenti chi toglie dosi alle regioni che alla densità abitativa più alta di italia ed europa sguardo anche alle prossime riaperture per la prima volta dopo un anno buona parte degli italiani potranno passare il primo weekend di festa in libertà o comunque con un sensibile allentamento delle restrizioni possibili infatti gli spostamenti tra regioni gialle e chi ha la possibilità di poter usufruire del passo immunitario sulle strade saranno comunque intensificate le attività delle forze dell'ordine che solo nelle ultime 24 ore hanno controllato oltre 100 mila persone con 888 sanzioni e 4 denunce l'omicidio cerrato della scorsa settimana scosso la cittadinanza di torre annunziata l'uomo 61enne barbaramente ucciso per un posto auto i cittadini si sono subito movimentati con iniziative e marce silenziose contro i soprusi e le prepotenze che ancora oggi avvengono sulla vicenda è intervenuto anche il deputato del movimento 5 stelle luigi gallo attraverso i suoi canali social gallo fa sapere che subito dopo i fatti ha scritto al prefetto ricevendo un'immediata risposta una situazione quella di torre annunziata che era apparsa critica sul fronte della criminalità già nel settembre 2020 quando avevano avuto luogo tre riunioni del comitato di ordine e sicurezza tematica senz'altro delicata quella relativa alla videosorveglianza telecamere e sensori quasi assenti nella città cosa che rende vulnerabili le istituzioni e mette in pericolo i cittadini proprio come accaduto con cerrato anche in quella circostanza le forze dell'ordine hanno dovuto lottare contro l'assenza di filmati e contro il muro di omertà diffuso tra la gente il comune di torre annunziata ha infatti chiesto a seguito della vicenda 85 nuove telecamere che si andranno senz'altro ad unire 55 sensori già in corso di installazione per assicurare al cittadino proprio la sorveglianza necessaria gallo fa inoltre sapere che hanno già avuto inizio i lavori di riqualifica proprio nelle aree prima possedute dalle principali famiglie camorristiche della città un segnale forte deciso che la comunità aspettava da anni segnale altrettanto forte quello legato all'ordinanza di rimozione degli ingombranti quali sedi e poltrone dal suolo pubblico le risorse stanziate dal governo per combattere queste realtà sono imponenti ma questo deve essere solo l'inizio di un percorso non un granello di sabbia che si disperderà nel deserto queste le parole dell'onorevole luigi gallo a conclusione del suo messaggio nel quale ha barato la strada passando ora il testimone alle istituzioni che si dovranno impegnare a mantenere l'impegno dimostrato per maurizio cerrato dottoressa cinzia mirabella resta tema caldo a torre del greco quella della questione rifiuti è ancora un tema caldo e lo è sempre stato per ogni amministrazione comunale è sempre stato il tallone di achille perché c'è c'è ancora molto da fare e c'è ancora molto da educare se possiamo così dire una popolazione che ancora non è abituata a un porta a porta ci sono molte zone dislocate molte zone non servite e quindi c'è bisogno ovviamente di educare la società buttol anche a servire queste zone e poi ovviamente c'è una parte dell'educazione che va fatta proprio i cittadini lei parlava appunto di rieducare i cittadini e infatti ancora una questione importante quella relativa agli ingombranti che tutti i giorni si trovano sul suolo pubblico diciamo il problema ingombranti è un problema che ingombra se possiamo essere ironici che potrebbe essere risolto ovviamente con l'apertura di un centro servizi questo farebbe sì che non la gente potrebbe sversare liberamente quelli che sono materassi rai frigorifero frigoriferi e anche a volte copertoni delle auto che continuamente noi ogni giorno troviamo sul territorio abbandonati in zone anche isolate un centro servizi potrebbe essere la soluzione anche se molto chiacchierato anche se molto discusso dibattuto anche negli ultimi consigli comunali però potrebbe essere la soluzione ovviamente abbinato a una serie di servizi che comunque potrebbero essere anche di svago anche di cultura e quindi non un luogo di degrado come spesso si pensa o si ipotizza ma potrebbe essere la soluzione ovviamente oggi allo sversamento illecito di ingombranti quali sono quindi ad oggi gli obiettivi e le iniziative che il comune di torre del greco in sinergia con la buttol propone ai cittadini e si augura di mettere in campo al più presto allora noi come come amministrazione abbiamo ipotizzato a una prossima mente all'introduzione di nuovo delle guardie ambientali che è un qualcosa che ha funzionato negli anni addietro e che vorremmo riproporre problema che sollevavano i cittadini era quello relativo ai bidoni al di fuori delle abitazioni le norme relative al bidone quando esporre al di fuori dell'abitazione quando invece no problema bidoni è sempre un problema per chi ce l'ha fuori casa magari piano terra ci sono diverse proprietà che mi hanno contattato perché magari si trovano fuori all'estremità di strade private quindi il bidone deve stare ovviamente fuori nella strada pubblica e rimesso dentro nella nella strada privata negli orari appunto di conferimento e di non conferimento stabiliti stiamo sostituendo i numerevoli bidoncini per arrivare soltanto un numero esiguo che dovrebbe essere di due per ogni sei famiglie per sé unità questo ridurrebbe il problema dei bidoni soprattutto nella circunvalazione dove appunto le mamme fanno slalom sui marciapiedi per salire e scendere dove non si riesce ovviamente a camminare e anche i portatori di handicap mi hanno più volte segnalato problemi stiamo partendo dalla circunvalazione ma poi abbracceremo un po tutte le strade i bidoni avranno un etichetta un codice identificativo quindi saranno personalizzati sarà responsabilità di chi lo gestisce ovviamente curarne poi che sia effettuata regolarmente la raccolta differenziata campania in zona gialla riaprono barre e ristoranti con non pochi disagi le categorie della ristorazione da prima relegate solo ed unicamente all'asporto riaprono le porte dei loro locali consumazione sul posto consentita senza limiti di orario ma solo nei luoghi all'aperto e comunque rispettando il distanziamento tra i tavoli andando a gravare sui locali che non dispongono di spazi esterni resti i gestori dei locali che si preparano ad affrontare il primo weekend in zona gialla il coprifuoco gioca senz'altro un ruolo fondamentale soprattutto nei locali che operano nelle ore serali costringendo la popolazione a rimodulare le proprie abitudini per poter sedere al tavolo al di là dei limiti orari è comunque imposto il limite massimo di quattro persone per tavolo debitamente distanziate una riapertura speranzosa che lascia però molti dubbi e perplessità nei ristoratori con le richieste di una vaccinazione di massa al personale del settore della ristorazione che restano ad oggi inascoltate un'apertura come dire molto limitata perché siamo possiamo ospitare solo all'esterno quindi dobbiamo sperare nel tempo innanzitutto e poi i posti limitati che chiaramente ci consente di ospitare i clienti stiamo facendo un tentativo che non riusciamo a come dire a valutare la convenienza o meno di queste aperture perché sì ci consentono le aperture però fra chiusura alle 22 e limitazione all'esterno praticamente non lo so sarà una scommessa penso che quasi perdente oltre alle limitazioni di posti all'esterno dei locali anche il coprifuoco che limita appunto la ristorazione nelle ore serali soprattutto si punta quindi alle ore di pranzo esatto quindi dobbiamo puntare ore di pranzo però specialmente per quanto mi riguarda nel fine settimana perché noi non siamo un locale serale di fatto un pub e quindi il fine settimana facciamo una una prova a pranzo e a cena quindi non sappiamo la risposta chiaramente dei cittadini e non sappiamo cosa concretizziamo di fatto c'era un'ordinanza precedente che prevedeva il fine pasto alle 23 poi di conseguenza il tempo tecnico per uscire quindi quindi invece qua alle 22 bisogna stare a casa teoricamente quindi abbastanza complessa la questione le 22 praticamente significa l'inizio della serata quindi praticamente chiudiamo prima ancora di iniziare tenere chiude chiuse le attività per più di sette mesi per alcune attività significa non riaprire più quindi lui a fatica ce la stiamo mettendo tutta per cercare di ricominciare riaperture delle attività ristorative però che si limitano a quelli che sono i posti all'esterno delle attività noi abbiamo la fortuna di averli abbiamo diciamo ricavato quest'angolino dal territorio l'abbiamo cercato di abbellire e diciamo possiamo sfruttarlo per chi non ce l'ha purtroppo continuano le restrizioni se queste sono le indicazioni dei comitati tecnici scientifici fari ci atteniamo a questo noi che siamo un'attività che abbracciamo dalla colazione al dopo cena per noi è limitante adesso possiamo bene o male i primi giorni valutare in un 30% l'incasso non di perdite proprio in un 30% della vecchia del vecchio incasso per alcune attività che lavorano solo di sera paninoteche cornetterie cioè significa chiusura le 22 cioè non apertura proprio quella è la discussione in vista appunto della stagione estiva lei si aspetta un rimodulazione dell'orario del coprifuoco o una completa abolizione ma io vado avanti qua dobbiamo vedere come attrarre di nuovo i turisti come farli ritornare sul nostro territorio rimane attuale la questione dei vaccini si parlava nelle scorse settimane di isole covid free quindi i vaccini anche ai ristoratori e alle persone delle attività commerciali ma certamente se questa è la strada noi siamo pronti ci vogliamo vaccinare vogliamo lavorare in sicurezza ultima giornata di campionato per la turis che domenica sarà ospite della vivonese i corallini ormai certi della propria salvezza potranno giocare il match di domenica senza alcuna pressione l'unico stimolo infatti sarà rappresentato dal possibile sentimento di rivalsa dopo la netta sconfitta contro la cavese in settimana per 3 a 0 con la squadra di cava dei tirreni che nonostante la retrocessione ha avuto il merito di giocare con orgoglio anche la vivonese è fuori dal discorso salvezza fattore che potrebbe agevolare la disputa di un match divertente e ricco di gol turno verrà annunciato da parte di mister bruno caneo recupereremo qualche energia annunciato nel corso della conferenza post gara di mercoledì e faremo sicuramente un altro tipo di partita domenica voglio dare spazio anche a chi finora è stato utilizzato meno o non ha avuto la possibilità di mettersi in mostra le prossime settimane saranno decisive anche per collaudare l'impianto tecnico e tattico attualmente in essere molti dei calciatori infatti saranno valutati con l'intento di costruire una squadra che possa ambire nuovamente alla salvezza magari con meno patemi rispetto a questa stagione per un calcio mercato che sta per aprirsi una novità arriva invece dalla scorsa finestra di trasferimenti turis e brescia infatti sembrerebbero aver trovato l'accordo sul caso pandolfi il diritto di riscatto sarebbe stato posticipato alla prossima stagione con il club di cellino che testerà il giocatore del risidio estivo corrispondente un prestito oneroso al club campano e con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro tg vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un email all'indirizzo redazione chiocciola tv city punto it o chiamare al numero 3 4 0 6 5 6 1 4 8 4 con questo è veramente tutto buona fine settimana e arrivederci a lunedì con l'informazione di tv city buona fine settimana e buona fine settimana e